Buonasera a tutti sono Luigi onore a questo è per finito e bentorni su DonutteCombattel versione JAP con l'analisi del nuovo ESA della vecchia LR Free2Play di Great Simon LR non so ho detto che avrei portato lo showcase di Janemba, lo porterò, sto avendo poco tempo per registrarlo, ho provato a fare alcune RAM per capire in quale team potessi mostrare uno showcase in cui per oggi Janemba fosse centrale, ho trovato il team, non sto a battere ancora le LGLGT perché ho avuto sfiga, era vinta, era praticamente vinta, perdevo solo se faccio l'attacco in un punto preciso ho fatto l'attacco in quel punto preciso, ma vabbè, può succedere, sappiamo tutti com'è comunque lo porterò, vi chiedo di avere un attimo di pazienza, sto passando il tempo tra Monster Hunter Stories 2 nei rarissimi momenti in cui respiro, lavoro e scrivere copioni per la mia opera ieri ne ho scritti due, siamo al episodio 21, devo prendere un'altra ventina e entro fine estate quindi capite che ho tanto di quel lavoro che la metà basta ciò nonostante, eccoci finalmente all'analisi di un LR molto aspettata perché mentre molte LR Free2Play, anzi quasi tutte le LR Free2Play non si sa mai cosa aspettarsi, tipo, Satana è diventato un ottimo tank ma non ci sapeva cosa aspettare Goku e Freezer si ci si aspettava che si diventavano degli ottimi DPS ma non si sapeva a che livello questo PG si sapeva tranquillamente che sarebbe diventato un ottimo, e sottolineo ottimo PG completo in ogni suo aspetto semplicemente bisognava capire come avrebbero lavorato con le percentuali, eccetera, eccetera, eccetera vi dico che hanno lavorato bene, hanno lavorato bene ma andiamo con ordine statistiche Full Ability Maxesa che sono, vi ricordo, uguali a quelle a Full Ability normale 19.434 HP, 15.280 attacco e 14.783 difesa leader skill migliore in, praticamente, la versione modificata e migliorata della leader skill di Veget Blue Tech che vedremo ulteriormente migliorata a breve quindi 3 keys a 130% in un team che prende tutti i tipi di super ottimo, ottimo, nulla da dire mi aspetto negli andori dell'R la passiva inversa passiva, 70% a quelle difese inizio turno il che è davvero buono, calcolando che non aveva nessun genere di bonus nel suo turno, nella sua forma normale già comunque veniva più che utilizzato anche in ROAD adesso avrà una difesa davvero interessante in più, mantiene il suo buff di 4 key e 5% di difesa a tutti i super mantiene il suo debuff del 70% di difesa in meno a tutti gli extreme il team guadagna un 58% di attacco più un 30% di, no scon, più un additional 100% con 30% di essere special quando affronta un extreme, quindi guadagna quel po' più di danno che non la rende un DPS, però la rende un PG davvero interessante altro fatto più che buono sono le sue special nel mente la 12 key rimarrà per molti quella a cui mirare in ROAD dato che SILA adesso guadagna anche l'abilità di aumentare attacco e difesa per un turno del 30% che non è male, anzi è buonissimo un turno del 30% di difesa è davvero tanta roba per questo PG rendendole davvero ottimo come difensore quando lancia la 12 key nel momento in cui però riuscite a lanciare la 18 key avrete sempre l'aumento di attacco e difesa per un turno ma un aumento del 30% di attacco, moltiplicatore special per tutti gli alleati super cosa davvero ottima che non vi cambierà la vita in quanto danni ma può aggiungere quel po' di danno che vi permette di chiudere quel mezzo turno prima Link così così salvo in alcuni team ma comunque ne ha un paio carini abbiamo Irof Jansis, Patron, Signature Pose, Infighter Supreme Power, Shedding Dammit e Legendary Power lui non serve a linkare, lui serve a baffare e a silare Categori, Bussaga, ottimo PG è uno dei PG che ha risollevato il team in un brutto periodo a mio avviso continua a essere più che giocabile in quella categoria almeno nella sua versione super e superiore anche a Kid Bu Kid Bu ok, dà anche il boost offensivo ma le busca davvero tanto e ormai si sente che è vecchio anche con l'ESA loro possono aiutarmi a tankare molto meglio e Bussaga, lo sappiamo, non ha problemi di danno, ha problemi di tanking sotto alcune forme, soprattutto quando Veget va in forma fusa abbiamo poi Joined Force, può tranquillamente essere usato per massimizzare il livello dei ki usando solo personaggi super Muviro sa anche a votare come buffer è ottimo Special Pose, Defender of Justice, soprattutto quest'ultima secondo me la potrebbero giocare anche in turnazione fissa anche se io penso che lui come PG dia il massimo quando gira in quanto riesce a dare i suoi ki un po' ovunque fare il suo lavoro dipende molto in cosa l'ha usato forse in Special Pose e in Defender e eventuali ROAD lo giocherà in turno se non ci sono più di tre nemici per averne sempre uno stilato, però capisco anche per chi non voglia farlo il build che consiglio fu l'Additional, 20 additional se è critico e poi insistere con l'Additional nel momento in cui abbiamo le ORD perché davvero lanciare quell'Additional special in più un 30% di difesa che non fa mai male PG promossissimo, felicissimo di vederlo uniconeo, non ho ancora il suono piccolo negli Android AESA e vorrei vedere entrambi i PG vedremo in questi KK tutto questo vi ringrazio e vi auguro una buona serata e noi ci vediamo domani, spero con lo showcase di Janemba in caso contrario probabilmente con una ROAD in quanto Taopai, anche se lo consegnano domani penso che ci vorrà qualche giorno perché lo provi bene devo per tutto capire dove provarlo in realtà quindi vediamo un po' grazie a tutti in seguito, ci vediamo al prossimo video buona serata grazie a tutti